Selvaggia Lucarendi di recente avrebbe parlato di Re Carlo d'Inghilterra a Ballando con le stelle. In particolare la bella giornalista iBlogger avrebbe, diciamo così, utilizzato delle parole che in qualche modo sarebbero rimaste presenti qua sul web. Quella gaff sarebbe questa quella che sarebbe nata, in particolare che cosa è accaduto? La gaff sarebbe nata durante il giudizio a Lorenzo Viaggiarelli, fidanzato proprio di Selvaggia. Fabio Carino quindi avrebbe paragonato a Camilla Parker Boots, adesso regina e consorte, dire Carlo. Così sarebbe arrivata proprio la risposta di Selvaggia Lucarendi, no? E avrebbe detto, se lui è Camilla io dovrei essere Carlo. Non mi fai un grande complimento paragonandomi a quell'eccesso. Sarebbero arrivati degli applausi non molto convincenti e non molto forti. In studio poi, però, ti sarebbe verificato un momento di giuro. E quindi Fabio Carino avrebbe fatto finta di non capire che Carlo Carino avrebbe ripetuto il concetto e avrebbe utilizzato gli stessi termini, poc'anzi utilizzati. L'imbarasso mi ha detto di essere sciolto, grazie al buon Ivan Zazzaruni. Quello avrebbe detto, mi ha appena chiamato una faccetta del binglese, non l'hanno presa molto bene. Ovviamente è stato un momento un po' divertente, che si è chiuso grazie a questo, chiamiamolo fuori programma, di Ivan Zazzaruni. Bene, diciamo che è stato un fuori programma, chiamiamolo abbastanza atipico, di salvatire. Un fuori programma dove l'appunto di Vagio Carini si impegna, o meglio, va a creare, no? Questo hype, se vogliamo, a livello televisivo, che di certo non passa inosservato. Detto questo, detto ciò, grazie a tutti voi utenti di Youtube, iscrivetevi al canale, mi raccomando, narratore italiano. Se è chiaro che questo video non vuole leggere la prevede di Selvaggio Lucarelli e di altre persone, ma solo informare eventuali esseri umani di quello che Selvaggio Lucarelli avrebbe detto a ballando con le stelle di recente. Ciao da Bosto Reandro, narratore italiano. Ciao a tutti.